Benvenuti. Oggi parliamo del grande Satoshi Kon. Di recente ho rivisto i suoi film e ho notato una cosa che prima mi era sempre sfuggita. I personaggi di Kon corrono sempre. E allora mi sono chiesto ma perché? Ora lo so che può apparire un dettaglio futile, eppure non è una cosa scontata. Se ci pensate in effetti quanti altri autori fanno correre così tanto i propri personaggi, beh in realtà non me ne vengono molti in mente. Alla fine però penso che non sia troppo difficile capire il perché. Ma facciamo un po' d'ordine. Quelli dei film di Kon sono personaggi irrealizzati, che cercano sempre delle risposte. Ora questa non è certo una novità. Basta leggere un qualsiasi manuale di scrittura creativa per sapere che un personaggio alla ricerca di qualcosa è uno dei presupposti fondamentali per gettare le basi del viaggio del proprio eroe. Ma credo che la bravura di Kon stia nell'aver reso suo tutto questo, aggiungendo un piccolo particolare. I suoi film considerano sempre il lato introspettivo e psicologico del personaggio. Ovviamente alle volte questo è più evidente, mentre in altri casi bisogna scavare più a fondo nella loro psiche. Le risposte che cercano i suoi protagonisti vengono sempre dall'interno, non da fattori esterni. Per dirla breve, tutti i personaggi di Kon sono alla ricerca della propria identità. Vale a dire ognuno di loro è qualcosa, ma cerca di essere qualcos'altro. Mima è una idol insoddisfatta della propria carriera che cerca di diventare un'attrice. Chi Oko è stata a lungo un'attrice alla ricerca del grande amore della sua vita. I protagonisti di Tokyo Godfathers sono tutti e tre in fuga dal proprio passato. In Paprika tutti cercano di dare un senso alle proprie ambizioni. Per non parlare poi dei numerosi personaggi presenti in Paranoia Agent, che corrispondono tutti a una descrizione più o meno simile. Persino nel bellissimo cortometraggio fatto da Kon prima di morire si ha questa impressione. Anche con un gesto così semplice come svegliarsi e sistemarsi per affrontare la giornata, Kon riesce a descrivere alla perfezione quest'idea. E quale modo più efficace di esemplificare questa ricerca di se stessi se non attraverso la corsa? Alla fine si corre sempre per due ragioni. Si corre verso qualcosa? Oppure si fugge da qualcosa? Ed è quello che fanno i personaggi di Kon. Fuggono da se stessi, come nel caso di Mima o dei protagonisti di Tokyo Godfathers, in fuga dal proprio passato. O nel caso opposto, vanno verso qualcosa, come avviene per Ciyoko in Millennium Actress. La corsa è la metafora perfetta per rappresentare la psicologia dei personaggi di Kon e il loro stato perenne di tensione esistenziale. E questo Kon lo sapeva benissimo. E qui entra in gioco un fattore pratico. La corsa è molto cinematografica. C'è qualcosa nel correre che richiama la natura più profonda del cinema come mezzo espressivo. E in effetti resistere a una scena di corsa ben fatta e ben inserita in un film, beh, è difficile. La corsa è movimento e il cinema è illusione di movimento. Guardate questo filmato. Si tratta del primo esperimento di cinematografia vero e proprio della storia. E a dire il vero tecnicamente non è nemmeno un filmato, ma una serie di fotografie messe in successione che danno l'illusione del movimento. Da quando esiste la possibilità di riprodurre il movimento, la corsa è una delle cose che esprimono meglio le qualità del cinema. E qui torniamo a Kon. È risaputo che Satoshi Kon avesse un grandissimo amore per il cinema e la sua storia, e si è sempre dichiarato un grande amante del cinema classico. Il cinema classico corrisponde a quella fase storica in cui le sue principali strutture narrative sono state portate a compimento. Molti di questi film in effetti fioccano di scene di corsa indimenticabili, che spesso rappresentano la sequenza più memorabile del film, o che corrispondono col climax vero e proprio. Satoshi Kon tutto questo lo sa, ed è per questa ragione che fa correre così tanto i suoi personaggi. Perché la corsa è cinema. E Satoshi Kon è forse il più cinematografico fra tutti i registi d'animazione. E qui entra in gioco la domanda che mi sono fatto. Mettendoci nei suoi panni ci si pone il problema. Ma allora come faccio correre i miei personaggi? Beh ovviamente ci sono tantissimi modi, alcuni più scontati di altri. Credo però che la bravura di Kon consista nell'essersi interrogato molto su questo aspetto. Torneremo di sicuro a parlare di Kon in modo più approfondito, ma qui voglio accennare soltanto un elemento. Kon dava tantissima importanza alla fase di studio e di preproduzione nei suoi film. È risaputo che i suoi storyboard siano tra i più dettagliati che esistano, e spesso impiegava interi anni per completarli, facendo addirittura slittare la fase di produzione vera e propria, pur di ultimare gli econte. Basta vederli. I suoi storyboard sono fumetti veri e propri. E quando si guardano le scene di corsa dei suoi film, questo impegno è evidente. Non c'è mai una scelta casuale o fatta solo per portare avanti il resto del film. Al contrario, le sequenze di corsa di Kon sono, beh, belle. Sarebbero bellissime da vedere anche se il resto del film non esistesse affatto. Dunque, che soluzioni ha adottato con... ovviamente c'è il caso più classico di tutti, la carrellata laterale. Poi, con una carrellata che precede i personaggi, riprendendo solo le gambe di chi corre, facendo correre assieme ai personaggi. Oppure, qui si sale di grado, con una corsa su per le scale, che rende tutto più concitato e consente anche di spaziare con la fantasia e coi movimenti di macchina. Fluttuando nell'aria. In questo caso, notate come ogni volta che corrono a mezz'aria, i personaggi di Kon abbiano espressioni felici, esprimano sempre leggerezza. O ancora di nuovo, saltando dentro qualcosa. Il mio esempio preferito è però questo. Correre raccontando una storia. Si tratta sempre di una carrellata laterale, ma credo che in questo caso l'esempio sia originalissimo. La corsa di Chiyoko viene interrotta da una nuvola di fumo, e quando la rivediamo, lei non sta più correndo, ma qualcuno lo fa al posto suo. Nel frattempo, da sinistra verso destra, ci viene raccontata una storia attraverso ciò che vediamo. Tra tutti gli esempi grazie ai quali Kon è riuscito a far emergere la personalità dei suoi personaggi attraverso la corsa, questo è quello che preferisco, perché l'intera scena di corsa quasi riassume tutto quello che c'è da sapere sulla protagonista, che è una sognatrice, che ha vissuto molte vite, che forse non raggiungerà mai il suo obiettivo, ma anche i legami che intrattiene con gli altri personaggi del film, e che guarda sempre avanti. Chiyoko è per definizione un personaggio sempre in corsa, e questa scena riassume lei e il senso del film alla perfezione. Trovo fantastico che Kon riesca a esprimere tutto ciò con una breve corsa. E questo è quanto, torneremo di sicuro a parlare di Satoshi Kon, ma io vi invito a riguardare i suoi film e a fare attenzione a tutte le scene di corsa che sono presenti. Per oggi può bastare. Grazie, Satoshi Kon. Grazie a tutti. Grazie a tutti.